Non posso credere che ti sposi quello. Quello? Il mio fidanzato? Sì, ma tu ami me? Che figura di merda! Se c'è una albona! Se la c'è una, se la c'è una! Lasciatela albona! Il matrimonio è fondamentale. E il momento in cui i due anime si uniscono a te? Una famiglia. Un conto corrente, papà. La donna più inveccia, più buona. Mi chiami tu stai dire a cellulare, amore mio? Sì, ti chiamo. Due colpetti di Kamasutra. Eh, quello che ci voleva. Ma sai che quella la piatta è un tipo particolare? Ma anche il mostro? Domani, c'hai? Pronti? Ma come si permette? Guardi che noi qui a San Moritz siamo abituati a cose molto scipite. Panna di scurazioni! Tra moglie e marito devi mettere il dito. Ma prima. Sai, io sono un ragazzo semplice, dall'animo gentile. Ma una domanda te la voglio fare, Patti. Poi scopà! Dimmi la verità, ti piace un po'. Sai troppo. Troppo? Troppo sola! Ok? Pronto, chi è che si esplicia? Se vieni qui, le faccia staggierà 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 staggierà. Il finale è disturbata, Aline. Ma ci sono le caloppe, la ronnetta. La nonna di Heidi. San Moritz. A noi ti dobbiamo chiedere una cosa molto importante. Eh, che fa la riete oggi? Sì, vuoi, la festa della Diannubilat. Dov'è? Ah, tronzo, ma ci vedi? Sta qua la festa. Mettito in fuda, mamma. Il lecca-lecca non lo voglio fare. Te lo dico subito. Il lecca-lecca non è finito. E cos'è? Il bastoncino. Signora, guardi com'è bello. È un porcelino d'India. Guardi. Il 26 novembre al cinema. È già Natale. Passaparola. 6, on the beach. Ce. My say... Bebri. Benzie a tutti. ik